Salve a tutti, io sono Giorgio Roma, questo è il mio canale YouTube Mr. Giorgio In questo video vi mostrerò come annodare la cravatta con il nodo tiro A4 La palla grande della cravatta nella mia mano sinistra, quella piccola nella mia mano destra Iniziamo Andiamo alla parte più grande, sovrapponiamola in questo modo Passiamo dietro Ancora davanti Teniamo sempre fermo al centro per evitare che la cravatta scivoli Andiamo verso il centro, da sotto Infiliamo Eccoci qua E voilà Il nodo è fatto Bene, grazie a tutti voi per la vostra attenzione Arrivederci al prossimo tutorial Grazie a tutti Grazie a tutti